Su questo sono molto contento che la squadra abbia vinto oggi perché dopo un periodo, come voi sapete, dopo questa partita che abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo portato a casa di risultato, sono molto contento soprattutto per i miei compagni. Durante questo periodo era un po' dura, però noi come gruppo abbiamo reagito e penso che oggi abbiamo tanto meritato questa vittoria e poi per il gol si pazienza, poi ne farò altri, quindi sono già contento con questi time. Sono d'accordissimo, è come se giochiamo già da due anni insieme e questo è una cosa molto positiva sia per noi due ma anche per la squadra e ora piano piano troviamo sempre più questa intesa. Sì, guarda, questo ci aveva detto il mister prima della partita, dottor Ragazzi, ok tattico, ok tutto, ma se mettiamo quella cattiveria, quella grinta che abbiamo messo contro il Genoa, vi prometto che oggi vinceremo. Sì, così è stato, quindi sono molto felice di questo e poi giocare qui penso che sia una cosa spettacolare perché poi con questi tifosi che c'erano oggi, che hanno acclamato, è bellissimo per me che sono venuto qua, sin da subito mi hanno accolto bene, sia i tifosi che i miei compagni, quindi sono molto curioso di far parte di questo gruppo. Ma si guarda, dopo Palermo diciamo che sono andato ad Empoli in Serie A e sono molto particolare perché ho avuto due brutti infortuni, non per scuse però ci hanno un po' diciamo influito sulla mia prestazione. Però dopo, dopo c'erano gli anni, sono andato alla Samp e mi sono andato con gente molto forte, con dei campioni e penso che sono migliorato tanto grazie a loro. Adesso ho andato su questa strada, sia l'anno scorso che quest'anno, che sono venuto qui in questa piazza che secondo me c'è il minimo da Serie A e spero che quest'anno ci troviamo grandi soddisfazioni perché questa piazza secondo me se lo merita. Penso che dopo Cosenza abbiamo perso, ci sono visti tutti in faccia, ci sono guardati, detto ragazzi che cosa dobbiamo fare e secondo me questa è stata la forza del gruppo che c'è e abbiamo dimostrato oggi e anche a Genoa, soprattutto a Genoa, perché lì secondo me è scadata quella scintilla del gruppo e su questo sono molto orgoglioso perché la squadra ci ha messo tanto cuore e tanta voglia e soprattutto per la maia perché da quando sono arrivato mi hanno fatto capire che per questa maia si deve fare tanto e io spero di farlo.